Siamo a Rocca Grimalda, proprio ai piedi della Rocca di Rocca Grimalda per fare un servizio, possiamo dire, danzareccio nel senso che siamo davanti all'ingresso della scuola di danza Dutal Psycho Dance, appunto di Rocca Grimalda in cui le atlete di questa scuola tra pochi giorni saranno impegnate nel campionato europeo a Gbiterbo e nei prossimi filmati vi faremo vedere proprio le ragazze che si esibiranno con delle acrobazie spettacolari quindi non mi resta che dire, viva la danza e viva questa scuola di ballo molto bella e molto gialla che puoi vedere da te Ok, entriamo Ok Hanno vinto la possibilità di entrare nella nazionale e quindi di partecipare ai campionati europei la testa, poi comunque la schiena, le gambe vanno a riscaldare tutto il corpo come riscaldamento anche nel calcio prima della partita non è che vanno in questo no è che vanno in questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.